ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario cardalis a cosa serve cardalis a un medicinale veterinario a base del principio attivo benazepril più spironolattone appartenente alla categoria degli ace inibitori più diuretici e nello specifico ace inibitori e diuretici è commercializzato in italia dall'azienda ceva salute animale spa cardalis può essere prescritto con ricetta rrv ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile informazioni commerciali sulla prescrizione titolare ceva sante animale concessionario ceva salute animale spa ricetta rrv ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile principio attivo benazepril più spironolattone gruppo terapeutico ace inibitori più diuretici forma farmaceutica compressa confezioni cardalis 10 mg più 80 mg 30 compresse cani cardalis 2,5 mg più 20 mg 30 compresse cani cardalis 5 mg più 40 mg 30 compresse cani principio attivo cardalis 5 a marchio registrato 2,5 mg barra 20 mg benazepril cloridrato hcl 2,5 mg spironolattone 20 mg cardalis 5 a marchio registrato 5 mg barra 40 mg benazepril cloridrato hcl 5 mg spironolattone 40 mg cardalis 5 a marchio registrato 10 mg barra 80 mg benazepril cloridrato hcl 10 mg spironolattone 80 mg indicazioni per il trattamento dell'insufficienza cardiaca con gestizia causata da rigurgito valvolare cronico nel cane con supporto diuretico quando necessario posologia questo prodotto in combinazione fissa dovrebbe essere utilizzato solo in cani che richiedono la somministrazione di entrambi i principi attivi simultaneamente a questo dosaggio prefissato uso orale le compresse masticabili di cardalis 5 a marchio registrato devono essere somministrate al cani una volta al giorno ad un dosaggio di 0 e 25 mg barra chilogrammi di peso corporeo di benazepril cloridrato hcl e 2 mg barra chilogrammi di peso corporeo pc dispironolattone in base allo schema posologico le compresse devono essere somministrate con il cibo o mischiate con una piccola quantità di cibo offerta prima del pasto principale o con il pasto le compresse contengono aroma di carne per migliorarne la palattabilità in uno studio clinico condotto su cani affetti da insufficienza cardiaca con gestizia causata da rigurgito valvolare cronico sono state assunte spontaneamente e completamente con o senza cibo nel 92 per cento dei casi avvertenze precauzioni speciali per l'impiego negli animali prima di iniziare il trattamento con benazepril cloridrato espironolattone dovrebbero essere valutati la funzionalità renale e i livelli sierici di potassio soprattutto in cani che potrebbero essere affetti dai poveri no corticismo ipercaliemia iponatriemia a differenza di quanto avviene nell'uomo nelle prove cliniche eseguite sui cani con questa associazione non ha stata osservata un'incidenza maggiore di iperpotassiemia tuttavia nei cani con insufficienza renale si raccomanda il monitoraggio costante della funzionalità renale e dei livelli sierici di potassio poi ca copyright ci potrebbe essere un rischio di iperpotassiemia dato che lo spironolattone ha un effetto antiandrogeno si sconsiglia la somministrazione del medicinale veterinario a cani in crescita è stata osservata atrofia prostatica reversibile nei cani maschi adulti interi trattati con spironolattone nello studio di sicurezza sulla specie di destinazione al dosaggio raccomandato il medicinale veterinario deve essere utilizzato con attenzione in cani con disfunzione epatica poi ca copyright potrebbe alterare l'ampia bio trasformazione epatica dello spironolattone fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato